il mondo rottoso prende la sabbia e la riporta un'altra volta all'armo creando un'erosione l'interno è molto forte ad occhio ruolo si vede diciamo che la via di costa in tutto questo pezzo è molto forte così misivamente che l'intervento è in questo eccoci in questo tratto la regione è di fatto da qui fino a quando lo mettete e la spiaggia la via di costa è molto forte diciamo che è un'erosione ecco lì si vedono le barriere c'è un riporto di sabbia naturale e poi c'è la difesa perché la sabbia è un'erosione di sabbia e che invece è il netto tradizionale quello con le barriere con il suo soffro diciamo che è un'erosione di sabbia è un'erosione di sabbia e un'erosione di sabbia è un'erosione di sabbia